Grazie mille. Io sono naturalmente molto contento di essere qui, di avere questa occasione di parlare di questo libro per delle ragioni che dirò, ma prima di tutto anche perché mi permette di essere qui con voi nell'Accademia di San Luca, un luogo molto bello in cui vengo troppo di rado, e perché mi permette di parlare di un libro alle mandi, di un libro in cui si riflette una parte del lavoro di Antonio Paolucci ai Musei Vaticani, un libro che Vittorio Cimino ha fatto con grande cura e che mi sembra molto interessante sottoporre a un qualche discorso, perché parla di pratiche, di buone pratiche, che si fanno nei musei con un grande desiderio di esplicitare e modellizzare, perché la vita quotidiana del museo, come tante altre vite quotidiane, viene di solito molto spesso, anche da illustri musei, data per scontata, presa come un qualcosa che tutti sappiano che cos'è, come una specie di sacerdozio le cui liturgie debbano essere riservate agli addetti ai lavori, mentre gli altri non possono esserne in nessun modo informati e anche soltanto in convegni specializzati, per in cui magari i conservatori o i curatori di un particolare museo si incontrano con quelli di un altro, ci sono convegni di restauratori, convegni di natura professionale, soltanto lì si tende a esplicitare. Qui invece c'è un discorso con un libro che chiunque può leggere, che chiunque può capire, che chiunque può considerare come una chiave di ingresso, come entrare nella vita quotidiana del museo. Questo mi sembra molto bello, mi sembra, se devo dire la parola giusta, democratico, perché credo che parlare con gli altri, parlare di democrazia, mentre questa in tutto il mondo è in pericolo, credo che va fatto anche nel mestiere che ciascuno di noi fa. La parola chiave di questo libro è nel titolo ed è conservazione, come si conserva un grande museo. Conservazione è una parola apparentemente molto chiara, ma di cui va specificato qualcosa, perché troppo spesso quando si parla, per esempio, nelle periodiche ritmiche e di solito dannose riforme, a cui il nostro Ministero dei Beni Culturali, qui parlo dello Stato adiacente alla città del Vaticano, cioè noi, l'Italia, quando si usano parole come conservazione, ma anche tutela, si tende a intendere questa parte del lavoro dei musei o delle soprintendenze come un lavoro di tipo puramente passivo, come se fosse la custodia di una cassetta di sicurezza, piuttosto che l'attiva presenza accanto al patrimonio sorvegliandone lo stato di salute per poterlo trasmettere alle generazioni future con qualche conoscenza in più e il meno possibile rovinato dal passare del tempo. Quindi rispetto all'idea passiva di conservazione, questo libro dalla prima pagina fino all'ultima, senza fare polemiche, senza fare teoria, ci spiega che la conservazione vuol dire essere attivi, il che è molto, che un museo debba essere attivo soprattutto nella conservazione. Io ricordo sempre, in questi casi mi viene fatalmente in mente, un vecchio articolo di Gombrich sulla Gazette des Beaux-Arts degli anni forse 50 o 60, il cui titolo era Should a museum be active? E la risposta era no, perché lui per attività intendeva le mostre, cioè o spostare i quadri da una parte o la parte. Lui diceva meglio, io quando torno in un museo dopo 30 anni mi piace trovare il quadro appeso dove me lo ricordavo, quindi i musei non devono essere attivi. Questa era una cosa che si racconta volentieri perché Gombrich è uno studioso che tutti amiamo, ma nel mondo nel quale siamo i musei devono essere attivi e anche lo stesso Gombrich non avrà mai negato che i musei dovessero esserlo dal punto di vista della conservazione. Rispetto alla retorica tutta italiana di una segmentazione perversa fra tutela, valorizzazione, gestione e fruizione, quando ognun sa che queste sono funzioni che si infilano l'una dietro l'altra e che formano una unità, il fatto di insistere sulla conservazione come una chiave di lettura del lavoro del museo mi sembra di per sé molto positivo. Naturalmente poi questo è ancora più positivo quando lo si applica a un museo dell'importanza storica, della tradizione, della dimensione, del numero di visitatori, già ricordato da Antonio Paolucci, dei musei vaticani. L'istituzione dell'ufficio del conservatore è un modo per dare evidenza a una funzione che certamente si faceva anche prima, ma in modo meno sistematicamente organizzato. Anche la funzione viene definita molto chiaramente. C'è una pagina, pagina 28 del libro, per chi di voi lo avesse, sotto gli occhi dove si parla proprio di che cosa deve fare il conservatore. E lo si fa con bullet points, in un modo molto semplice, come fosse una specie di circolare interno. La conservatoria è affidata all'istruttore e al coordinamento di un piano di manutenzione ordinaria delle collezioni, un piano di manutenzione ordinaria dei depositi, un piano di manutenzione ordinaria delle decorazioni di pregio, e poi continua insistendo sempre sul fatto che il museo è un luogo vivo in cui queste operazioni quotidiane fanno parte della vita del museo. E insistendo anche sulla definizione del conservatore come una nuova figura professionale trasversale, che oltre alla conoscenza dei materiali dell'arte, dei processi di dissecuzione, dei meccanini di degrado, dovrà poter disporre di più linguaggi, quello tecnico-scientifico, eccetera, eccetera. E qui si vede che si vede attraverso questa definizione, che non vi sto a citare oltre, e anche attraverso tutto quello che dice il libro, si vede il nesso forte, nel quale evidentemente l'autrice crede, ma nel quale i musei vaticani credono, che propongono come un modello, perché bisogna aver coraggio per dire, noi facciamo così, diteci come fate voi, questo è un modello, ce ne sono altri? Questo credo che sia il senso di questo libro, e questo credo che sia veramente molto bello che venga fatto da un museo di questa importanza e di questa tradizione. Si vede un nesso forte fra la conservazione e la ricerca. Parola esiliata dai corridoi del nostro Ministero, che non ha mai capito, non ha mai voluto capire, lo ha capito sempre in modo del tutto imperfetto e del tutto marginale, che la ricerca è la chiave di tutto, perché quello che lega insieme la tutela, la valorizzazione, la gestione, la fruizione e quant'altro è la ricerca, cioè la conoscenza, perché non si fa tutela senza conoscenza e non c'è conoscenza senza ricerca. Qui invece si vede dietro la conoscenza l'importanza della ricerca di natura storico-archivistica, di natura storico-artistica, di natura archeologica. C'è anche una parte, come dirò fra poco, sulle aree archeologiche che ricadono nelle competenze di questa nuova figura professionale, sui restauri storici, che naturalmente sono una parte molto importante, perché i restauri storici a loro volta vanno considerati come un oggetto di conservazione, come un oggetto di conoscenza, e poi la conoscenza tecnico-scientifica che va continuamente aggiornata, siccome da questo punto di vista la tecnologia, le possibilità, per esempio, di controllare il microclima, cosa come Antonio Paolucci accennava poco fa, in un luogo come la Cappella Sistina, soprattutto, la tecnologia fa passi da gigante di continuo, soltanto se c'è una piattaforma di conoscenza costante, di buone pratiche costanti, le nuove ricerche tecnologiche si possono innestare su questa e comportare immediatamente l'adozione di nuove modalità che possono ottenere maggiore efficacia con minore spesa, come accade. Quindi veramente questi 350.000 euro sono molto ben spesi, perché consentono anche di mantenere un certo livello tecnologico e di mantenere quell'aggiornamento indispensabile in questo campo, come negli altri. Sacro Santo Assioma, definisce Paolucci, quello che così formula ha sempre meno restauri e sempre più conservazione preventiva e manutenzione programmata. Questo, naturalmente, ha una grande storia dietro le spalle e non si può fare a meno di citare, in questo senso, Giovanni Urbani, un grande direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro, il quale sulla conservazione programmata ha insistito moltissimo, con scarsa fortuna, presso le gerarchie ministeriali, allora, come praticamente sempre, sorde all'uso della ragione, ma il discorso che Giovanni Urbani ha fatto lo si vede tradotto qui in pratica. L'annotazione che Paolucci aggiunge, anche per iscritto, e ci ha ricordato poco fa, è molto preoccupante. Io ve la leggo, a costo di ripetere quello che, con la sua propria voce, Antonio ha detto poco fa, solo in Vaticano, sto citando, solo in Vaticano mi è stata data la possibilità di tentare di mettere in pratica quell'aureo principio, perché solo il Vaticano ha assicurato le necessarie risorse finanziarie e umane. Che cosa cambia? Qual è il clima che cambia in Piazza San Diego? C'è forse un microclima diverso, c'è forse un diverso continente, o c'è un maggiore uso della ragionevolezza, una maggiore capacità di guardare lontano, perché la conservazione programmata vuol dire lungimiranza. La sordità a questo tema, pur teorizzato da un grande funzionario del nostro ministero, come Urbani, è ripetuto poi da molti altri, per carità, perché sono certo che anche chi dirige ora l'istituto centrale per il Stato non la pensa diversamente, o i colleghi dell'Opificio. Però questa incapacità di lungimiranza, il fatto che ogni ministro deve fare a propria immagine e somiglianza, o piuttosto immagine e somiglianza di consiglieri e burocrati, che in un museo ci sono stati, sì e no, 20 minuti in tutta la vita, una nuova riforma del ministero. Questo è purtroppo la storia che ci sta perseguitando. Questo libro racconta anche numerosi casi singoli. Ci sono delle finestre aperte sulla Cappella Palatina, delle finestre aperte, o forse anche chiuse, sulla Cappella Paolina, perché la luce che entrava era troppo. E si potrebbero raccontare dei casi che sono fatti, io ho molto apprezzato, la grande sobrietà. Perché è possibile, parlando, che so io, di una cosa come la Cappella Sistina, che tutti conoscono, come la Cappella Paolina, che tutti credono di conoscere, ma in cui pochi sono veramente entrati, è molto facile farsi prendere la mano da lunghi racconti. Invece qui tutto è fatto con un tono neutro e molto efficace, proprio per questo. Vittorio Cimino comincia, anzi, dal principio, con una elencazione, anche essa molto sobria, delle domande a cui il libro intende rispondere. In una forma sintetica e diretta da manuale. Usa questa frase, che anch'essa è una frase, diciamo, di apparentemente basso profilo, ma che cela la vera ambizione di questo libro. Le interazioni che il libro evidenzia fra didattica, tecnologia e sicurezza sono molto utili da richiamare in questo contesto, oltre a quelle che ho già richiamato. È chiaro che ognuno di questi segmenti e di queste funzioni può avere senso soltanto in relazione all'insieme, che queste funzioni si sostengono l'una con l'altra. Un tema molto interessante, ne posso citare solo alcuni, è quello dei depositi. Qui ci sono, a pagina 15, delle cifre straordinariamente interessanti che pochi musei hanno reso pubbliche con altrettanta, diciamo, schematicità ed eloquenza, perché quando ci sono i numeri c'è la cosiddetta eloquenza dei numeri. Non è soltanto una formula retorica, ma è vera. A pagina 15 c'è una specie di schema che ci dice, per esempio, che le antichità greche e romane esposte sono 5.450, ma quelle in deposito sono 7.211, mentre quelle usate come arredi sono 389. Cito queste, perché sono uno storico dell'arte antica, ma si potrebbero citare le altre. Questo è l'equilibrio che cambia. E poi la differenza tra le opere esposte e quelle non esposte, se guardiamo da un lato le antichità greche e romane, se guardiamo le raccolte etnologiche, vediamo che la percentuale di quelle esposte cala bruscamente e la percentuale di quelle in deposito sale enormemente. Da tutto questo si potrebbero ricavare moltissime indicazioni. Sul tema dei depositi il libro torna più volte. Il controllo ambientale, il monitoraggio continuo viene descritto con una ricorrenza che non è insistenza, nel senso che la struttura del libro invita a ritornare su alcuni temi di quando in quando, per esempio su quello del monitoraggio ambientale. E un altro dei temi ricorrenti è quello delle antiche pratiche, delle antiche pratiche di conservazione che sono descritte al principio, poi nell'appendice di Maria Antonietta De Angelis e Marta Bezzini, appendici e descrizioni che parlano di questi oscuri operai di un tempo che si chiamavano mundatores o scopatori e che hanno per molto tempo nell'ombra, insomma, ma di cui vengono descritte anche le divise, anche abbastanza interessanti da immaginare, che hanno continuato a proteggere queste opere pulendole. Credo che questo si possa estendere molto, si potrebbe estendere, non è certamente il caso di farlo qui, alla cura delle opere d'arte, per esempio le colonne trionfali o gli archi, eccetera, nella Roma Pontificia. Quando studiavo la colonna traiana, lavorando con la soprintendenza, a un certo punto vennero fuori delle carte che non ho provato a ritrovare, perché nel disordine della mia casa non so più dove sia, da cui risultava in modo inequivocabile che la colonna traiana aveva avuto una specie di regolare manutenzione di pulizia e forse anche qualche stuccatura o qualcosa, praticamente fino alla breccia di Porta Pia. E dopodiché questa cosa si era interrotta, si era interrotta, questa buona pratica si era interrotta perché nel passaggio di quel territorio, del territorio già pontificio, a un altro Stato, si erano interrotte delle buone pratiche. Non sto dicendo che i bersaglieri abbiano delle particolari colpe nell'avere favorito l'unità d'Italia, eccetera. Sto dicendo però che ogni volta che si creano delle discontinuità bisognerebbe che ci fosse qualcuno che provasse a ricucire, ma non sempre c'è. Non sempre c'è. Però, parlando di antiche pratiche, fatemi fare l'archeologo per cinque minuti, le antiche pratiche sono ancora più antiche di queste perché i greci ci badavano molto. Nelle fonti antiche ci sono numerosissime fonti antiche. I greci erano più loquaci dei romani da questo punto di vista che parlavano di epimeletai, curatori. In italiano si traduce curatori. Quelli che nei vari santuari si dovevano curare. Qualche volta ci dicono che cosa facevano. Per esempio, rinfrescavano i colori alla vigilia delle feste. Oppure coprivano, lucidavano con l'olio, per esempio la statua di Zeus a Olimpia, di avorio e d'oro, opera di Fidia. Veniva lucidata con olio di oliva periodicamente da un collegio semisacerdotale, detto Fai Druntai, che alcune fonti interpretano come discendenti di Fidia, i quali erano un collegio fisso che risiedeva in un edificio che era l'ergasterion di Fidia, cioè quello in cui lui aveva costruito lo Zeus. Per fare questo Zeus colossale, che era alto 14 metri, se ricordo bene, seduto, tant'è vero che una fonte antica dice che se si fosse alzato in piedi avrebbe sfondato il tetto del tempio. Per costruirlo, per montarlo con un po' di avorio e un po' d'oro, Fidia si era fatto costruire un edificio, ergasterion, cioè il laboratorio, delle stesse identiche dimensioni della cella. Dopo che lo Zeus era stato montato, fu smontato, fu riportato nella cella, rimontato, avvitando, imbullonando le parti di avorio su quelle d'oro, poi c'erano anche altri materiali, il suo ergasterion fu trasformato in sede di un collegio di conservatori che curavano la statua, curavano la statua perché era molto delicata e si può continuare, e si potrebbe continuare ancora. Però vorrei aprire un piccolo spiraglio anche su Roma. Vi farò vedere, perché alla fine di questo mio discorso a cui mi sto approssimando, alla fine a cui mi sto approssimando di questo mio discorso, ci sono anche tre immagini che vi vorrei far vedere, nella prima delle quali vi farò vedere l'iscrizione, un'iscrizione trovata in Piazza Montecitorio, non tanto lontano da qui, che era lo stipite della porta di una casa di adrasto, liberto imperiale, al tempo di Settimio Severo, è un'iscrizione che sulla base di indizi interni si data fra il 193 e il 210, credo, dopo Cristo, il quale aveva la stessa funzione della signora Cimino. era il, si chiamava Procurator Columne Divi Marci, il procuratore, cioè quello che doveva, e lui chiede, questa iscrizione, conserva una corrispondenza fra lui e la casa imperiale, lui scrive all'imperatore, osa scrivere all'imperatore dicendo io devo curarmi di questa colonna, abito in una capanna, in una povera capanna, devo stare vicino alla colonna, perché mi devo occupare della colonna, potrei costruirmi una casa? E l'imperatore naturalmente non si degna di rispondere personalmente, ma i suoi ufficiali, che so che firmano la lettera, dicono, sì, te la puoi costruire, ti diamo anche i materiali, però poi te la costruisci a spese tue, ma con i materiali che ti diamo noi. e lui sta lì, sta lì e spiega che la sua cannaba, cioè capanna, deve essere trasformata in hospitium, e deve essere però lì vicino, vicino alla post columnum centenariam, la colonna di cento piedi, e deve essere, e gli danno il suolo, è un suolo pubblico, cioè gli danno il suolo pubblico, i materiali di costruzione, ed è una cosa talmente strana che lui scrive tutta questa corrispondenza, la trascrive sullo stipide della porta, perché è chiaro che potrebbe andare qualcuno a dirgli ma tu che ci fai in questa casa qua, e lui invece la trascrive lì, e nella lettera che indirizzata all'imperatore dice domine, permittas rogo utrexius fungar ufficio meo, signore, permettimi che ti chieda, che possa fare il mio ufficio bene, fammi stare vicino alla colonna che devo curare, questo mi sembra una cosa molto interessante, era un funzionario, quelli che studiano il funzionamento della casa imperiale romana, hanno analizzato il linguaggio di questa lunghissima iscrizione, che poi vi farò vedere, e sono giunte alla conclusione che era un ufficiale di rango abbastanza alto, il rango di procurator non era poi così basso, che cosa facesse esattamente non si sa, ma c'è una certa riluttanza da parte degli archeologi di credere che facesse veramente solo questo, hanno cercato svariate altre funzioni, hanno cercato, anche perché c'è, a un certo punto parla di un pons, e lui vuole costruirsi un pons, pons vuol dire ponte, ma vuol dire anche impalcatura mobile, ma perché l'impalcatura mobile? Qualcuno, un archeologo dice, ma forse perché dovevano restaurare un pezzo che si era rotto, oppure forse perché a un certo punto volevano togliere la faccia di Commodo, figlio di Marco Aurelio, dopo che c'era stata l'adamnazio memoria perché era uno sciagurato, eccetera, eccetera. Invece l'interpretazione più probabile di Pons è che sia l'impalcatura che gli serviva per spazzolare, pulire, era un mundator, pre-pontificio. Questo mi sembra che, essendo in questa stessa città, non vale la pena di farlo. D'altronde, questa cultura della conservazione ha una tradizione anche più radicata di cui si faccende. La fabbrica di San Pietro non è un caso isolato. Le fabbricerie, che possono essere del Duomo di Firenze o di Pisa o di Orvieto, eccetera, eccetera, o di Milano, la veneranda fabbrica del Duomo di Milano, eccetera, sono tutte, fanno parte di una cultura per cui il cantiere, il grande cantiere, non finisce mai. Il grande cantiere non finisce mai. La fabbrica di San Pietro non finisce mai finché c'è San Pietro. La fabbrica del Duomo di Orvieto, anche di una città, evidentemente molto più modesta di Roma, non finisce mai. E questo senso è molto interessante in opposizione all'idea dell'opera d'arte come colpo di genio di un singolo artista. Da questo punto di vista anche il Nicola Zabaglia col suo trattato del 1740 Erotti sui castelli e i ponti va richiamato in questo momento. Dunque, in armonia con la tradizione storica, questo è uno dei messaggi di questo libro, la manutenzione è un momento organico alla vita del museo, manutenzione è meglio del restauro, la manutenzione, se possibile, va fatta invece del restauro e la manutenzione va fatta comunque anche dopo il restauro. Cioè ogni volta che si fa un restauro, questo è un altro messaggio di questo libro, bisogna prevedere un piano di manutenzione, un piano di manutenzione ordinaria di cui qui si parla in modo molto accurato. Qui vorrei andare, se possibile, alle mie piccole immagini con cui vorrei finire. Ecco, questa è l'iscrizione di questo adrasto e la freccia indica la riga dove dice Procurator Columne Divi Marci, che è il più antico, credo, esempio a Roma di una funzione di questo tipo. Mi sono piaciute molto di questo libro ed è su questa nota che vorrei chiudere le foto bellissime in cui nelle pagine 84-85 si vedono i manutentori all'opera sotto l'occhio dei visitatori. Cioè far vedere le operazioni, il visitatore non tenuto, non escluso, chiuso per restauro è una frase diventata così famosa in italiano che l'ho vista in lingua italiana in vari musei, persino nel Museo Archeologico di Istanbul una volta c'era scritto chiuso per restauro in italiano, solo in italiano, perché è diventata proverbiale che nei musei italiani ci sono alcune stanze chiuse per restauro e la maggior parte dei turisti non ci credono perché ritengono che sia una balla per giustificare il fatto che il custode tal d'Italia è andato a prendersi un caffè. Invece che essere chiusi per restauro il museo ha aperto per restauro cioè quello che fa vedere la manutenzione secondo me è molto importante anche perché è una maniera diciamo alternativa. Io sono fra quelli che ritengono che le mostre che di mostre se ne fanno troppe che le mostre siano necessarie perché le mostre qualche volta consentono degli accostamenti che sono conoscitivamente molto importanti ma che di mostre se ne fanno troppe però valgono di solito vengono considerate come l'unica modalità con la quale un museo può conversare con il pubblico mostrando e qui cito ancora Gombrich come ho fatto prima di essere attivo ma ce ne sono altre e mostrare le attività della manutenzione mostrare la vita quotidiana del museo secondo me può avere un impatto emozionale straordinariamente straordinariamente forte la mostra non può essere l'unica attività del museo soltanto trasformando il museo in teatro di se stesso si può coinvolgere il pubblico non soltanto con le emozioni dell'arte ma anche con le emozioni della cura dell'arte che sono emozioni altrettanto forti non solo per il conservatorio per lo storico dell'arte per l'archeologo ma anche credo per il pubblico l'arte antica ha ancora un valore molto alto e lo vediamo dalle citazioni vorrei farvi vedere se possiamo andare avanti di una di una immagine non so quanto si veda queste sono immagini di un film degli anni 90 di un film di un film di zombie dove a un certo punto da Londra grandi folle scappano verso un castello scozzese e in questo in questo castello scozzese accadono delle cose che non vi racconterò ma tutto quello che accade accade sotto gli occhi di un Laoconte che è un rifacimento approssimativo del Laoconte Vaticano è un film apocalittico si chiama 28 Days Later di un regista scozzese che si chiama Danny Boyle e il Laoconte è la chiave per comprendere l'intero film e sul Laoconte si imperniano i tre finali fra cui il pubblico lo spettatore è chiamato a scegliere perché lo cito non perché mi piacciono i film di zombie l'ho visto solo perché qualcuno mi ha raccontato che c'era Laoconte perché altrimenti sono film che evito accuratamente però lo cito perché per dire che esiste ancora anche al cinema anche in un genere che forse non so quanti di noi in questa sala frequentino assiduamente ma anche in una zona così diversa da quelle che sono le nostre abituali letture o abitudini anche al cinema l'arte antica ancora dispiega le sue formule di pathos ce le fa ce le rende ce le rende familiari ma le formule di pathos possono anche essere quelle di chi pulisce le le immagini se andiamo alla mia ultima immagine credo che sarà del tutto evidente questa è una è una foto che ho che non c'è nel libro ma che ho ricavato da un servizio mi pare sul venerdì di repubblica sull'espresso su una delle due cose su un venerdì di repubblica che mi piace moltissimo perché c'è questa questa ragazza che sembra volare dietro il laoconte qui si vede veramente c'è la doppia formula di pathos il pathos dellaoconte con tutte le storie che evoca che so io Virgilio e il pathos di chi si occupa di dare al laoconte quella perpetua freschezza che ci rende i musei vaticani tanto cari grazie 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 grazie